Allora, fino ad oggi ci siamo occupati di parlare di quegli esempi di arte, soprattutto bizantina, che mantengono il collegamento, quanto più possibile diretto, con la tradizione classica, quindi come la tradizione classica sopravvive agli albori dell'arte cristiana, dell'arte medievale. Da oggi possiamo cominciare a parlare di quella che, impropriamente, secondo me, il vostro libro definisce arte barbarica. Noi abbiamo detto che preferiamo definire l'arte germanica, sapete che barbaro significa semplicemente coloro che balbettano, era il termine col quale i greci definivano coloro che non parlavano il greco, quindi i barbari sono tutti coloro che non seguono la cultura dominante. E in effetti l'arte germanica, l'arte di questi popoli che definiamo barbarici, che sono i popoli della periferia dell'impero, quindi i popoli che stanno ai margini dell'impero romano, sono in effetti portatori di un tipo di cultura completamente nuova, completamente diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati, nel senso che si tratta di una cultura completamente anticlassica, che porta valori diversi, che ha caratteristiche diverse. Però noi sappiamo, per averlo detto ormai tante volte in classe, che immaginare che una cultura di riferimento sia l'unica cultura portatrice di valori assoluti è un errore, un errore enorme. È chiaro che la cultura classica portava dei valori importantissimi, ma le culture barbariche, vedremo, aggiungono a questa cultura classica qualcosa di completamente nuovo. E dalla fusione di questi modi barbarici con ciò che rimane della cultura classica, veicolata dagli esempi bizantini, nascerà poi fondamentalmente l'arte medievale, e da cui si svilupperà l'arte dell'Occidente cristiano, cioè la nostra arte di riferimento. Vedete bene, per esempio, in questo caso, nell'immagine, avete la celebre corona del ferro, detta anche qui impropriamente corona ferrea. Non si tratta di un qualcosa di ferro, come vedete bene, si tratta di un oggetto di oro e di pietre preziose, smalti. Il ferro è quello che vedete dentro, che è una reliquia che ha a che fare con uno dei chiodi della croce, con la quale appunto è stato crocifisso il Cristo. Ma indipendentemente da cosa rappresenta l'oggetto in sé, già ad una prima occhiata ci si rende conto che si tratta di un oggetto ricchissimo, di un oggetto di grandissima qualità e di una rara bellezza, ma di una bellezza completamente diversa da quella che conosciamo nel mondo classico. In che senso? Il mondo classico si concentra fondamentalmente sulla figura umana, per esempio, e sull'idea di idealizzazione di mimesis. Il mondo invece barbarico, il mondo germanico, per i motivi che abbiamo già accennato in classe, per motivi anche di praticità, si ha la necessità di produrre oggetti di piccole dimensioni e quindi di dedicarsi di più alla decorazione che non alla rappresentazione delle figure umane. La figura umana non compare quasi mai, compaiono figure di altro genere, compaiono per esempio figure mitologiche, molto spesso si trova il drago che è arrotolato in qualche modo nelle proprie spire, compaiono oggetti che hanno a che fare con il viaggio e con la caccia, compare il cavallo, compare il falcone, compaiono gli animali da preda. In questo caso, per esempio, noi abbiamo due piccole laminette con un leone, con un cacciatore e quello che vedete sotto è una borchia che serve appunto per agganciare i finimenti di una sella. Quindi questo ritornare costantemente del soggetto, del tema, del viaggio, che sarà tipico del mondo appunto che il vostro libro definisce barbarico e che sarà proprio caratteristico di un'epoca, di un'epoca in cui questi popoli, che sono popoli migranti, arrivano in occidente, cioè arrivano in occidente più che altro, arrivano all'interno dei limiti dell'impero romano, che non esiste più, e si sostituiscono ai governanti romani. Dall'unione di queste due forme d'arte, la forma d'arte classica e quella appunto barbarica, avrà origine la cultura, l'arte medievale, esattamente come dall'unione di questi popoli germanici con le civiltà preesistenti, con le società preesistenti, con gli apparati statali romani, nasceranno i cosiddetti regni romano-barbarici, cioè dei regni dove domineranno questi barbari, questi popoli germanici, i logobardi, i franchi, i sassoni, gli ostrogoti, prima ancora, ma dove ovviamente si manterranno alcune strutture precedenti, perché è evidente che questi cosiddetti barbaroi non sono affatto stupidi, quindi a contatto con una civiltà diversa assimilano le parti che gli interessano di questa civiltà. Abbiamo detto che fondamentalmente uno dei luoghi, dei momenti artistici che interessano di più a queste popolazioni hanno a che fare con la metallotecnica, abbiamo parlato della miniatura, della lavorazione del cuoio, dell'ebanisteria, cioè di tutte quelle cose che hanno a che fare con lavorazioni piccole e trasportabili, la parte forse più importante è proprio quella della metallotecnica. Per poter capire appieno la metallotecnica è necessario guardare prima di tutto con una rapida carrellata in maniera molto semplice le tecniche una per una cercare di ricordare quali sono i termini anche che riguardano queste tecniche. Partiamo dalla tecnica forse più semplice che è quella dello sbalzo. Forse avete provato anche voi a fare degli sbalzi, io mi ricordo di averlo fatto alla scuola media. Si tratta semplicemente di creare delle immagini in negativo, da vedere però in positivo, cioè io prendo una lamina, scavo questa lamina, colpisco questa lamina con un martelletto e con degli strumenti e degli scalpelli e poi girando la lamina quello che io ho da una parte è in negativo, in questo caso ce l'ho in positivo, cioè riesco a vedere qualcosa a sbalzo che viene fuori da questa lamina. Questo è il caso della lamina di Agilulfo che è evidentemente una laminetta frontale di un elmo, si vede da queste due arcate che sicuramente stavano nella parte sopraccigliare di questo elmo, quindi ora non interessandoci tanto delle forme, della rappresentazione del re e degli angeli con i cartigli ai lati, eccetera, ci interessa proprio la tecnica, questo semplice modo di fare scultura, quindi non si tratta di una fusione ma proprio di uno sbalzo al contrario. Vedete come funziona, cioè io ho una lamina, la poggio su qualcosa di morbido e poi attraverso una serie di strumenti colpisco in negativo, disegno in negativo quello che mi interessa e poi giro la lamina e ho l'immagine in positivo. Altra tecnica molto interessante è quella della filigrana. La filigrana consiste nella fusione, diciamo così, nell'incollare dei filamenti preparati dopo la ritorcitura, cioè sono dei filamenti di oro, di argento, di lame, quindi di metalli preziosi che vengono appunto arrotolati, ritorti e poi attaccati ad un fondo di metallo prezioso per creare dei disegni oppure possono essere utilizzati come nell'orecchino, nel pendaglio che vedete alla vostra destra proprio come ciondo. La filigrana quindi è una sorta di elemento molto sottile, molto delicato, di una oreficeria finissima. Come è finissimo è la lavorazione della granulazione, lavorazione che deriva dal mondo antico, gli etruschi erano dei campioni della granulazione, il gioiello che vedete alla vostra destra è un gioiello etrusco per l'appunto. La granulazione consisteva nel fondere, nell'incollare dei piccoli grani d'oro direttamente su questi fondi metallici, ma immaginate dei grani d'oro minuscoli, quindi anche qui se noi guardiamo il tipo di lavorazione ci rendiamo conto della maestria che era necessaria per mettere insieme queste piccole palline d'oro, io vi ho messo anche un esempio moderno di un lavoro di granulazione fatto con l'argento, ma solo per farvi capire come funziona, e incollare in fusione con altro oro queste palline per creare delle figure complesse, quindi anche in questo caso sono tutte figure in rilievo che io posso ottenere a sbalzo, posso ottenere attraverso la filigrana, posso ottenere attraverso la granulazione. Vedete, in questo caso abbiamo la granulazione e insieme alla granulazione l'incastonatura. L'incastonatura consiste nel porre delle pietre dure o delle pietre preziose all'interno di un gioiello all'interno di un castone, il castone è proprio l'alveo nel quale si inserisce questa pietra, questo alveo avrà un labbro come vedete che gira intorno vedete intorno alla pietra e che chiudendosi in qualche modo tiene la pietra ferma, questa appunto è l'incastonatura. Se voi vedete queste tre gioielli, queste tre figure, vedete che all'interno di questi tre gioielli ci sono diverse tecniche contemporaneamente, ovviamente c'è la fusione, c'è la granulazione, ci può essere la filigrana, ci sono le incastonature, c'è il cesello, ci può essere lo sbalzo, cioè le varie tecniche si mescolano fra loro e vanno a creare delle opere d'arte molto complesse di una fattura ricchissima, rarissima, quindi immaginare che questi fossero barbari, cioè fossero personaggi incapaci di realizzazione artistica che è evidentemente sciocco, si tratta semplicemente di un interesse per altre forme d'arte in cui si raggiunge una qualità, un livello artigianale potremmo dire, assolutamente, assolutamente eccelso. Vediamo per esempio una tecnica che è una tecnica molto più complessa che è quella dello smalto cloisonné, esistono vari tipi di smalti, lo smalto cloisonné consiste nel prendere anche qui una lamina di metallo e costruire degli alveoli ritorcendo altre lamine di metallo. Questi alveoli, praticamente queste lamine formano dei disegni, creano degli alveoli, cioè degli spazi vuoti che vanno riempiti con lo smalto, questi spazi prendono proprio il nome di cloisonné per quello che si parla di smalto cloisonné, poi si riempiranno questi spazi con gli smalti, vedete in questo caso abbiamo anche degli alveoli che si sono svuotati, quindi riempimento con smalti, quindi paste vitere colorate e poi una lavorazione che liscia in qualche modo pareggia questi smalti e a questo punto le lamine di metallo sembreranno le linee di un disegno preordinato, disegno che però come vedete a parte alcuni elementi zoomorfi e fitomorfi ma fondamentalmente si interessa dell'intreccio geometrico, un tipo di disegno di decorazione tendenzialmente astratta. In questo caso abbiamo la tecnica dell'incisione, una sorta di graffito, è una tecnica in cavo che viene realizzata con dei bulini che sono degli strumenti appuntiti con i quali appunto si incide questa lastra di metallo con una differenza fondamentale rispetto all'ultima tecnica che vi presento che è quella appunto del cesello perché vedete anche nel cesello si lavora in positivo in cavo si martella sul metallo per creare la forma ma mentre nell'incisione il metallo viene tolto cioè viene eliminata una parte di metallo nel cesello invece la martellatura serve solo a spostare il metallo sapete il metallo è fluido quindi si modifica si cesella per l'appunto in questo caso non c'è nessuna perdita di metallo mentre nel caso precedente la parte diciamo incisa veniva a perdersi cioè si elimina una parte del metallo ora se noi torniamo vediamo molto rapidamente queste immagini ce ne andiamo conto oltre che della impressionante qualità del fatto come dicevo prima che si tratti di una ricerca di unione di tecniche diverse unione di tecniche diverse che porta a capolavori come quello appunto della corona del ferro dove voi vedete l'incastonatura vedete lo sbalzo vedete la cesellatura vedete sicuramente lo smalto non ci sono in questo caso granulazione o filigrana ma potrebbero esserci quello che interessa a noi è che tendenzialmente questi popoli che noi abbiamo definito germanici e quindi i goti ostrogoti e visigoti vandali longobardi unni perché no cioè tutti i popoli che abbia burgundi tutti i popoli che incontrerete soprattutto nello studio della storia di questo periodo non si dedicano alla realizzazione della figura umana ma alla figurazione di intrecci intrecci vegetali intrecci animali intrecci geometrici di una complessità impressionante che ci dimostrano con la loro complessità che non si tratta di persone che non sono in grado di realizzare opere complesse chi riesce a mettere in scena diciamo così delle decorazioni così complesse così intrecciate così difficili sicuramente dovrebbe essere in grado anche di realizzare l'essere umano ma l'essere umano evidentemente non rientra non rientrava tradizionalmente nel range di azione di questi di questi artisti e quindi non conoscono la rappresentazione dell'essere umano vedremo che nelle prime rappresentazioni degli esseri umani che si troveranno soprattutto nella miniatura degli evangelari cioè nel momento in cui questi popoli si convertono al cristianesimo e quindi si devono confrontare con le scritture sacre e quindi devono realizzare scene immagini che hanno a che fare con i santi gli evangelisti Cristo la vergine eccetera ecco avranno un certo imbarazzo nella realizzazione delle figure umane una qualità altissima nella parte decorativa degli intrecci fitomorfici zoomorfici e geometrici e poi una qualità geometrizzante assolutamente astratta talmente semplificata da sembrare quasi fanciullesca quando si tratta di rappresentare le figure umane vedremo appunto che l'unione di queste due tendenze quella classica della rappresentazione umana della imitazione della natura nella idealizzazione della natura con questa grandissima vena decorativa dell'intreccio del gusto per il colore della ricchezza proprio degli elementi intrecciati messi insieme daranno origine a un'arte completamente nuova che sarà appunto per buona parte dell'arte cristiana che poi darà origine al romanico e poi al gotico che studieremo nel corso dell'anno nella prossima lezione ci occuperemo in particolare appunto di miniatura cioè della pittura su carta la decorazione dei libri liturgici in particolare di miniatura di miniatura di miniatura di miniatura di miniatura